Per me ci siamo... Colta mia sono avuto tanto, non avevo un altro impianto prima, avevo il presidente della regione che mi voleva parlare di distesso idrogeologico, lui, comunque, lasciamo stare. Tu hai i buchi! Comunque, a parte quello, ho sentito un sacco di interventi, ma ripeto, colta mia che sono avuto tardi non ho sentito quello che vuole lei. E quindi io volevo anche capire quello che è lei, quello che ne sente lei, se è una stemporalità che è venuta fuori, se invece proprio non si sente, se... Cosa vuoi fare tu? Perché il gruppo prima di tutto, il fine ultimo è sempre quello, però vorrei capire se sei della squadra o no. Non ho mai parlato male, io mi trovo molto bene qui con voi, io ho parlato solo di toni, di comunicazione, fine, non ho parlato d'altro, non mettetemi in bocca cose che non ho mai detto. Quindi non mi devo giustificare con il gruppo, perché per me il gruppo va benissimo. Sì, una risposta, c'era una chiesa di molti, non ho sentito la possibilità, però fortesemente, ci vuoi dire perché hai ritenuto di dover parlare a Skype prima di aver parlato con noi? Allora, l'ho detto prima, ho detto che prima ho parlato più o meno con varie persone qui del gruppo e ho capito che... L'assemblea, 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 l'assemblea. Ciao. Ho parlato, non ho parlato in assemblea. Allora, c'è Audita che voleva dire un... No, basta. Eh, maudita.